E poi c'è questo, qui c'è un cambio di pelle interessante. Sì, la lista nozze. Se si parla di gratitudine, qui devo citare anche la fondatrice dell'azienda dove sono atterrato 25 anni fa, che è la signora Fontana, alla quale devo tantissimo. Qui ci sono i fan? No, a parte i fan, ma quello che succede nella vita di avere delle persone che ti fanno da sponsor, l'ho imparato anche qui a San Patrignano, l'ho imparato prima, ci sono l'angeli custodi. Ognuno di noi ce l'ha, si tratta di trovare quel punto d'incontro nel quale scocca questa scintilla. Io ho avuto la fortuna di trovarlo e nella mia vita ce ne sono tanti di queste persone alle alle quali devo qualche cosa. Poi te le devi conquistare perché se non vali niente nessuno ti cerca, qualche cosa devi portare. E grazie a lei che siamo partiti con la lista nozze, siamo partiti diventando il primo player delle liste nozze in Italia con 5.000 liste nozze. Ma anche qui, cambi di pelle, fatto 8 anni da leone, le liste nozze sono morte, lo sapete tutti, siete consumatori. Le liste nozze oggi si fanno in agenzia di viaggi, si fanno addirittura con Liban, ma Liban, Gianluca mi è capitato di vederlo recentemente in Cina, ce l'hanno anche gli homeless, hanno Liban con scritto in cinese, me lo sono fatto tradurre. non importa se non hai monetine, qui c'è Liban, quindi fai il versamento al poveretto che c'è in strada, pazzesco. Ecco, allora i giovani sposi hanno deciso di cavalcare ancora oggi questa possibilità di avere i soldi e di disinteressarsi di tutto quello che c'era in lista nozze. A noi è crollato un business da 5.000 liste nozze, improvvisamente da zero e le abbiamo dovuto risvoltarci le maniche. Improvvisamente da zero? Sì, c'era una moria, quella squadra che vince si cambia, in quel caso stava morendo, stavano morendo le liste nozze, altri si sarebbero dovuti aggrappare al valore che rimaneva, invece noi abbiamo preferito cambiare completamente e andare a cercarci avventure vendendo altri prodotti. Questo è stato un po' quello che è successo. Quindi abbandonate il modello di business che funziona nel giro di quanto tempo? Penso due anni per cambiare pelle, due anni per cambiare tutta la catena, perché da lì abbiamo cambiato completamente tutto. I negozi hanno svoltato, sono diventati negozi di vendita e di impulso, sono diventati negozi dove vendevamo cose più di uso quotidiano e abbiamo veramente dovuto recuperare un fatturato molto alto, dato dalle liste nozze con valori unitari importanti, con quattro ciarabattole che dovevamo comunque vendere per recuperare quel fatturato. Ti faccio una domanda stupida ovviamente, corsendo di poi, se avessi insistito lì, dire no no no, teniamo duro sulla lista nozze. Io penso che Casanova sarebbe chiusa a questo punto, ma come potrebbe essere chiusa fra altri anni da qui in avanti, se ancora oggi non portassimo avanti il processo evolutivo che ancora oggi stiamo facendo, perché sono cambiati i gusti, sono cambiati i consumi, noi guardiamo spesso, si parlava di soft skills, sono importantissime, sono vitali per poter capire che cosa devi fare. Se guardi il contesto sociale capisci quello che la gente ha bisogno, se guardi solo te stesso, quelli che sono i tuoi bisogni, hai una visione molto parziale di quello che è la società. Capire quello che vuole la gente, come evolve, siamo in un clima di omnicanalità, Casanova non può sottrarsi dall'omnicanalità, quindi dovremo servire il nostro cliente avvolgendolo in una coperta molto calda, che è il sito e i negozi, in modo da fargli capire che noi siamo al suo servizio. Siamo al servizio di un cliente facendogli trovare la merce a casa, facendogliela trovare in negozio qualora vogliano prenderla in negozio ordinandola dal sito e via dicendo. Quindi per me è interessante questa cosa, noi non ci conoscevamo, stamattina c'era in apertura, io ho citato l'esempio di due miei amici imprenditori che di fronte ai fatti che gli dicevano cambia hanno ottenuto duro, in questo caso il fatto è che di fronte a un fatto che diceva cambia, voi siete stati in grado, le liste nozze che finiscono, siete stati in grado di cambiare possiamo dire che sono la vostra sopravvivenza, noi siamo qua perché in quel momento siete stati veloci a cambiare. Sicuramente.